Ciao a tutti, bentornati sul canale! Ecco qui il quinto pacco di Ardenevi di De Agostini che contiene i numeri 10 e 11 di questa collana veramente incredibile e diciamo questa volta sono due primi album super importanti è il primo album dei Megadeth, Killing Is My Business e il primo album dei Venom che si intitolava Black Metal un titolo importante che lancia una moda, fondamentalmente uno stile quello che poi sarà il Black Metal negli anni futuri anche se questo disco in realtà non ha niente a che vedere con il Black Metal moderno ma era più un Trash Metal di inizio anni 80 come tutti gli altri gruppi importanti di questo filone quindi diciamo apriamo insieme questi due monumentali album vediamo come sono composti, poi chiaramente andiamo a leggere anche gli opuscoli e così traiamo insieme qualche conclusione su questi due gruppi incredibili allora iniziamo ovviamente con Killing Is My Business sicuramente più importante dell'altro titolo ricevuto questa volta perché segna un evento storico ovvero poco tempo prima, diciamo meno di due anni prima Dave Mustaine era stato cacciato fondamentalmente dai Metallica per i suoi abusi di alcol, droghe eccetera e forma i Megadeth una band diciamo con una light up iniziale piuttosto, tra virgolette passatemi il termine, rozza nel senso che con Gar Samuelson e Chris Poland hanno un sound decisamente più aggressivo rispetto a quello che avranno in futuro allora intanto vediamo il disco è un normalissimo 180 grammi nero ma molto bello qui c'è la presenza di Vic Ratled sicuramente da considerare per quanto riguarda diciamo questo disco ovviamente vabbè c'è la presenza di Mechanics che viene portata dai Metallica perché diciamo Dave Mustaine aveva scritto buona parte di Kill Em All e qualcosa anche su Ride the Lightning che però poi giustamente si porta via ad esempio Mechanics era The Four Horsemen che chiaramente viene riportata qui con un titolo diverso e qualche cambiamento ad esempio il testo e poche altre cose sicuramente è un titolo fondamentale anche se poi la discografia consigliata dai Megadeth consiste anche nel secondo album ovvero Peace Hells But Who's Buying chiaramente Rust in Peace e Countdown to Extinction allora nel secondo album abbiamo la stessa line up mentre in questi altri due qui abbiamo la line up che viene considerata un po' da tutti quella più importante dei Megadeth ovvero quella con Marty Friedman e Nick Mensa chiaramente tutto il merito è di Dave Mustaine che tuttora porta avanti questa band in maniera incredibilmente professionale e quindi devo dire che questo è un album fondamentale da avere in qualsiasi collezione di uno che si definisce Metallaro per quanto riguarda questo Black Metal dei Venom è sicuramente un titolo che io conosco diciamo poco l'ho sentito diciamo più volte all'epoca e l'ho sentito anche diciamo altre volte nel corso del tempo perché chiaramente è uno di quei dischi fondamentali anche se devo essere sincero non mi ha mai entusiasmato più di tanto diciamo io privilegio delle sonorità con maggiore melodia anche se riconosco l'importanza di questo disco che come vi ho detto prima lancerà poi lo stile del Black Metal il Black Metal in realtà a me non piace sono delle sonorità troppo violente con voci assolutamente secondo me non melodiche ma ripeto questo disco qui anche se viene catalogato come quello che poi ha lanciato e ha fatto nascere il Black Metal in realtà non ha molto del Black Metal moderno che conosciamo oggi ma era più un disco Trash Metal come tutte le band di quel periodo qui vediamo la discografia consigliata dei Venom è ovviamente Welcome to Hell poi abbiamo At War with Satan e Possessed diciamo che già qui si avvicinavano un po' di più con le sonorità e soprattutto le tematiche anticlericali e diciamo sataniste o roba del genere a quello che poi sarebbe stata la tematica principale del Black Metal io non ho niente a che vedere con Chiesa e roba del genere però diciamo non mi è mai piaciuto tutto quello che ha fatto sì che poi si parlasse male del Heavy Metal in generale lo ripeto questo disco è sicuramente molto importante per il genere però se proprio dovessi scegliere ecco lo metterei in secondo piano qui abbiamo questa inner sleeve che si può sostituire chiaramente a questa allora in realtà bisognerebbe tenere queste antistatiche che sono sicuramente migliori per proteggere il disco ma questa è quella originale dell'epoca di quando è uscito quindi sicuramente questa qui è da conservare o da cambiare a seconda dei gusti personali quindi diciamo che è normale che ci sia qualche titolo che ci piace di più e qualcuno che ci piace di meno ma l'importante è riconoscere sempre l'importanza dei titoli specialmente di quelli che sono stati selezionati per questa bellissima opera diciamo che lo scopo fondamentale è quello di farci conoscere anche cose che o che non conosciamo o in generale che abbiamo un po' snobbato nel passato oppure perché no per avere una seconda possibilità di farci piacere delle cose che magari abbiamo ascoltato con superficialità in passato sicuramente questo dei Venom è un titolo di questo tipo che conosco ma ho un po' così sentito con superficialità per i motivi che vi ho detto prima quindi è un'ottima occasione per risentirlo per quanto riguarda i Megadeth vabbè questo primo album lo conosco veramente a memoria addirittura io ho in cd la versione anche con This Boots una cover che purtroppo non hanno più potuto inserire nelle stampe successive per questioni di diritti e anche un'altra versione in vinile che ho è esattamente identica a questa quindi non c'è sul lato B This Boots ma vabbè diciamo è un dettaglio l'importante è la musica originale che è nel suo intero diciamo questi sette brani sono quello che è stato composto all'epoca di originale per il primo album dei Megadeth ovviamente nei commenti qui sotto fatemi sapere cosa ne pensate di questi due titoli importanti perché mi piacerebbe conoscere anche il vostro punto di vista detto ciò a questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei prossimi video detto ciò vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni ciao ciao